Le polemiche nella maggioranza del Comune di Ischia, innanzitutto le dimissioni dell'assessore Iannotta all'indomani dell'approvazione del bilancio, Iannotta tra l'altro dichiara il mio gruppo non mi ha supportato più. Paolo Ferrandino, come mai? Per quanto mi riguarda io a Sandro, quando è stato il tempo e anche negli ultimi tempi l'ho portato in braccio, quindi probabilmente lui non se ne è accorto perché è un peso più, ma forse lui nell'atteggiamento che ha visto dell'amico Luigi che in qualche modo l'aveva espresso dal primo momento, visto che non c'era in Consiglio Comunale solo l'approvazione del bilancio. In qualche situazione precedente aveva votato contro a qualche provvedimento che lui sosteneva in quanto assessore ed altro, probabilmente non avendo trovato più l'appoggio di Luigi ha ritenuto che era sfiduciato. Per quanto mi riguarda Sandro già da domani può riprendere il suo ruolo perché nessuno meglio di lui ha svolto quel compito in questo lasso di tempo dell'amministrazione. Quindi ritengo che per la competenza, per quello che è l'affidabilità, Sandro non sia altro da richiamare al suo ruolo, ritenendo da subito che il mio appoggio, così come già era in precedenza, va in linea e va a ruota di quello di Gigi Mollo che dal primo momento l'ha espresso. Quindi per quanto mi riguarda, probabilmente era un segnale di stanchezza o di chiamata ad altri impegni, più che una motivazione politica per la quale ribadisco che per quello che riguarda me ha sempre avuto dall'inizio la mia fiducia e continua ad averla. Però poi ci sono state le dimissioni anche di Isidoro Di Meglio. Insomma, che cosa sta succedendo nella maggioranza? Signori, ognuno probabilmente ritiene di dover rappresentare qualche cosa che va al di là di quelle che sono le situazioni obiettive. Probabilmente Isidoro, in questo momento, non ritrovando una linea che va nella direzione di quello che possono essere le sue idee, ha ritenuto di buttare la spugna. Su quello che è la difficoltà dell'amministrazione ad andare avanti e d'altro, sono tutte chiaccere che io lascio a quelli che le dicono. Perché in sostanza l'amministrazione è solida, il momento è difficile, però praticamente questa amministrazione che ha avuto un mandato elettorale sicuramente porterà in porto quello che è il mandato che ha ricevuto.